Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di mercoledì 19 febbraio 2020, questo è il canale 17 di FanoTV con l'informazione che apre la nostra giornata insieme e lo facciamo con il santo del giorno e con il cartello che indica San Corrado con falonieri, il sole sorgerà tra un minuto e tramonterà alle 17 e 43 minuti. Il tempo perché oggi la protezione civile delle marche prevede rovesci di pioggia durante le ore centrali della giornata e rovesci nevosi sopra i 1300 metri, le temperature sono in diminuzione, domani il tempo migliorerà, giovedì 20 avremo cielo sereno poco nuvoloso con temperature ancora in lieve diminuzione, mentre venerdì ancora temperature minime, quelle della notte che caleranno scenderanno ancora, mentre le massime si riprenderanno ed ecco perché durante la notte di venerdì avremo anche possibilità, soprattutto al primo mattino, di gelate nelle zone interne e nei fondovalle. Condizioni poi stabili e soleggiate per l'intero fine settimana che come è noto, almeno per noi che siamo qua a Fano, sarà l'ultima domenica dedicata al carnevale e l'avremo ancora soleggiata. E adesso parliamo invece dei giornali, giornali che adesso andremo a vedere. Domani a Pesaro arrivano le Sardine insieme a Matteo Salvini, due comizi, anzi un comizio, quello di Salvini e una donata, quelle delle Sardine alla stessa ora, alle 18, ma in due piazze con capienze differenti. Poi sempre restando a Pesaro c'è Matteo Ricci che vedremo tra poco, ha scritto il terzo libro, l'idea raccontato e racconta gli è venuta durante, mentre era con Liliana Segre, la senatrice a vita. E poi a Fano invece la bella storia di una ragazza che per 19 anni ha vissuto praticamente una vita da anoressica ed ora invece può raccontare una storia molto bella, commovente, che è a lieto fine. Tutto questo e molto di più nella rassegna stampa che comincia adesso con il Corriere Adriatico, l'edizione di Pesaro e l'idea di Ricci di realizzare dei parcheggi a Villa Marina, nella vecchia area sportiva. È un'idea che il sindaco ha avuto per la zona del porto e del mare di Pesaro dove c'è bisogno, c'è la necessità di realizzare parcheggi, però Gambini lo stoppa. Poi c'è l'economia in primo piano, sempre sul Corriere, intesa che forse prende Ubi. Le Marche sono in ansia perché intesa San Paolo lancia questa offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle azioni di Ubi, un assestamento di rotta che viene captato dai radar marchigiani dei 797 sportelli in regione, a fine 2019 Ubi ne conta 215, intesa 102. Emerge dunque il caso Marche, è tra le regioni dove si concentrerebbe il maggior numero di sovrapposizione di sportelli. Poi per quanto riguarda la viabilità, stress test a Muraglia. Da lunedì 24, e quindi attenzione, non si circolerà più nel sottopasso di Via Lamarca, quello che vedete nella fotografia, qui sopra passa la statale 16, quindi in direzione Pesaro, e di qua invece per andare, diciamo, verso Fano. Sarà Via Flaminia a scontare con il traffico la chiusura di questa statale. Poi c'è la politica con Zingaretti che vede il segretario regionale del PD Gostoli, ora la rosa dei nomi, chiede Zingaretti. Il PD è all'ultima e alle ultime battute per definire l'operazione candidato governatore. Ieri il segretario Gostoli è stato ricevuto da Zingaretti ed è tornato nelle Marche con una roadmap. Farà l'ultimo tentativo per trovare la sintesi, prima della direzione regionale, con la coalizione e con i Cinque Stelle. Poi, sotto invece, qui in basso, PRG a Fano, Rebus della viabilità, ha tre opzioni verso Pesaro. Fano presenta le linee del nuovo strumento, restyling in zona mare e rete di piste ciclabili. L'assessore all'urbanistica Cristian Fanesi, con i tecnici del Comune, hanno relazionato nella giornata di ieri sulle linee del nuovo PRG che saranno portate in approvazione del Consiglio Comunale nella seconda seduta del 26 febbraio. Ed è praticamente l'esito di sei anni di lavoro. Questa invece è la prima pagina del resto del Caleno di Pesaro. Ecco la storia che vi dicevo, anoressia all'inferno e ritorno, storia shock di una donna che ha lottato per 19 anni. Poi, Villa Marina Ricci vuole i parcheggi, il Comune farà un'offerta all'Inps per acquistare l'ex area sportiva, ma scatta la protesta ambientalista. In Serie C lo sport, la Dio Appavanna, la Vis, esonera il suo allenatore e riparte da Giuseppe Galderisi, mentre il basket vuole perde pezzi, Barford verso Roma. Domenica le maschere, 4 carri e 8 sfilate, è il Carnevale dei ragazzi, anche Pesaro ha il suo Carnevale, mentre sotto il caso in un liceo di Fano, dove un professore si è invaguito di una collega molto più giovane di lui, le ha fatto una corte spietata, che però alla professoressa non è piaciuta, e l'ha portato in tribunale per stalking. In due mesi 50 lettere d'amore, poi tanti mazzi di rose alla collega, che però lo ha denunciato e ora vuole dei soldi. Dopo le fiamme, mobilitazione invece per il Cocobongo, torniamo a Pesaro, un locale che prese fuoco al mare, clienti ed amici adesso insieme al titolare organizzano una cena per riaprire la prossima stagione. Salvini e le Sardine, siamo nelle pagine interne, occupano le piazze, centro blindato, attese 4.000 persone, comitato in prefettura per pianificare il servizio d'ordine al doppio raduno di domani alle ore 18, ci sarà anche Santori delle Sardine, l'ideatore, insomma tutti alle 18, Salvini in Piazza del Popolo, mentre le Sardine saranno in Piazza Lazzarini. Troppe rose e lettere d'amore, un professore finisce nei guai, siamo sul Carlino, insegnante di un liceo fanese indagato per stalking nei confronti di una giovane collega ed è stato pure licenziato in tronco. Quando lei a un certo punto è iniziata, dopo l'ennesimo regalo, si è scoppiata a piangere, il professore si è reso conto forse di aver esagerato, per lui è stata comunque una doccia gelata, le ha chiesto scusa, ha messo subito fine al suo pressing amoroso, però ormai era troppo tardi. La collega si era nel frattempo rivolta alle forze dell'ordine per denunciarlo. Il professore è stato indagato per stalking dalla procura di Pesaro, ma non solo, quel corteggiamento gli è costato ancora più caro, ovvero il licenziamento in tronco. Con l'udienza preliminare davanti al gruppo è Giacomo Gasparini, adesso si è aperta la parentesi penale, mentre sul licenziamento è stato impugnato e presto ci sarà la decisione del giudice del lavoro. Non è ancora stato deciso il rinvio a giudizio. Insomma, i legali del 63enne hanno prodotto foto e messaggi che sono stati postati dalla presunta vittima, quindi dalla collega, sui social, e i legali hanno detto, insomma, pare serena, non è una perseguitata. E tutto il racconto poi nell'articolo di questa mattina sul resto del Carlino, come dicevamo. Marche Nord, l'azienda ospedaliera Marche Nord, che cambia volto, è stato presentato ieri ai sindacati del comparto e della dirigenza medica il nuovo atto aziendale, è un documento che sintetizza la nuova organizzazione che il direttore generale intende imprimere alla struttura ospedaliera, è la versione 2020, dopo le due precedenti, quella 2016 e 2018, quella del 2018 puntava all'aumento del numero delle prestazioni e della complessità delle cure. Invece ha spiegato Maria Capalbo, che è la direttore generale dell'azienda Marche Nord, la versione 2020 ha come obiettivo il miglioramento della qualità delle cure. Restano, dice sempre la Capalbo, restano come prima 11 dipartimenti, senza gravi costi per l'azienda ospedaliera, poi ci sono dei cambiamenti, neuroscienze e riabilitazione per chi soffre di patologie nervose. Sulla cronaca della Valle del Cesano, invece da terre roveresche, c'è la questione del digestore anaerobico, questo manifesto e questo fronte del no che si allarga sempre di più, la minoranza alza un muro. Digestore, noi siamo terre roveresche, incalza il sindaco Sebastianelli. Ieri mattina i rappresentanti della minoranza hanno depositato la richiesta di convocazione di un consiglio comunale straordinario che abbia come tema l'impianto di trattamento integrato anaerobico-aerobico per la produzione di biometano, eccetera, eccetera. Questo da realizzare in località Carafaneto, nel municipio di Barchi, per conoscere il progetto e soprattutto la posizione dell'amministrazione comunale in merito a questo progetto che è stato già presentato, avanzato da una società privata e che adesso attende il parere della provincia. Rilanciate le ragioni contrarie del consigliere regionale Federico Talè e dei comuni limitrofi. Talè che aveva detto nei giorni scorsi era uscito pubblicamente dicendo che non era pensabile assolutamente fare questo digestore in quella terra. Quindi un no assolutamente perentorio. Mentre sotto, sempre nella pagina del Corriere, è urgente ripristinare la centralina anti-smog di Marotta che era attiva fino a qualche anno fa. Lo chiede il consigliere Lucchetti che sollecita il Comune per l'allarme a Fano. E a Fano, nella pagina del Corriere, si parla della viabilità dolce nella zona mare, un rebus di tre opzioni verso Pesaro. Sono le linee guida del piano regolatore generale che sono state presentate dall'assessore Fanesi e dai tecnici alla commissione competente. Altri assi di sviluppo sono la città inclusiva, i quartieri autonomi e la corona verde. L'hacker inserito invece in una rete nazionale, si parla di quel giovane fanese che andava al cinema con la telecamera nascosta per riprendere e filmare i film appena usciti in sala e che poi li immetteva su internet per trarne evidentemente dei profitti. Il 39enne di Fano è stato rinviato a giudizio con l'accusa di aver messo su internet illecitamente le registrazioni di film in prima visione, riprese che erano state effettuate all'Usi Cinema di Fano ma non è l'unico hacker che ha scoperto la guardia di finanza. Infatti il fanese aveva collegamenti con altri hacker informatici di altre parti d'Italia ma anche all'estero. La pagina di Fano invece del resto del Carlino è sui parcheggi a pagamento al porto. È un provvedimento che sta facendo discutere al porto Burrasca è un provvedimento valido dalla fine di maggio nel tratto finale di Viale Adriatico e parte di Via Nazario Sauro. È partita una raccolta di firme tra gli operatori nessuno ci ha interpellato dicono ne è chiesto nulla siamo rimasti tutti all'oscuro. è un provvedimento che dovrebbe partire alla fine di maggio come dicevo e che prevede la parte finale di Viale Adriatico praticamente all'altezza del ristorante della Comarpesca comprendendo anche buona parte di Via Nazario Sauro e saranno parcheggi a pagamento ma nessuno appunto ne sapeva nulla ed è per questo che si sono arrabbiati. Anziano salvato al Molo Poligioni un riconoscimento e due angeli l'esponente della Nuova Fano chiede un elogio pubblico per il carabiniere e il medico che sono arrivati per primi e gli hanno salvato la vita. Ricordiamo che quest'uomo questo 67enne fanese che si è sentito male al Molo è ricoverato tuttora al San Salvatore di Pesaro è in coma farmacologico ed è in pericolo di vita. L'anoressia per 19 anni ecco il titolo dell'articolo che vi dicevo all'inizio di questa rassegna stampa pagina 5 lo troverete sul resto del Carlino alla fine ho vinto io racconta Valentina oggi quarantenne e racconta Valentina il suo calvario commossa dalla tragedia del ragazzo piemontese morto pochi giorni fa e spiega Valentina come ha fatto ad uscirne è un racconto ripeto molto molto bello commovente ma anche da un certo punto di vista anche sconvolgente soprattutto se si pensa a questa ragazzina che all'epoca aveva 16 anni come dice lei racconta lei e aveva deciso lei dice in maniera scientifica scientemente di smettere di mangiare ero un adolescente molto fragile che non si sentiva ascoltata e quello era il mio modo per essere vista all'inizio pensavo di poter invertire la rotta quando volevo ma sette mesi dopo aver iniziato a rifiutare il cibo mi sono accorta che avevo perso il controllo di me che se decidevo di mangiare un gelato i sensi di colpa avevano la supremazia andiamo avanti il Carlino parla questa mattina anche del teatro dialettale che purtroppo si sta ridimensionando sempre di più la rassegna Cianfrusaglia giunge all'edizione numero 16 ma con sole due compagnie in scena un tempo erano tante il pubblico c'è ma mancano i contributi comunali e proprio da fanno era partita la legge regionale per valorizzare il dialetto il vernacolo gli attori purtroppo sono decimati non ci sono più comunque ce ne sono pochi ma dicevamo sono soltanto due le compagnie teatrali allora vediamo vediamole vediamo quali sono questi due appuntamenti in programma a teatro allora abbiamo intanto il guitto che il 24 25 26 febbraio con eventualmente la giunta di una nuova data il 2 marzo entrerà andranno in scena con la commedia che si intitola il bar sotto Montegiove cioè il bar sotto Montegiove che è scritta da Stefano e da Alice Guidi il bar in questione tra l'altro è realmente esistito e parte dello stabile è ora utilizzato dalla compagnia come sala come sala prove e poi c'è l'altra compagnia che invece è il GAF di Bellocchi che porta sul palco sempre del Pontiama cum la giri la giri manda sempre don il 16 17 18 e 23 marzo ora questa è un'altra commedia la 31esima inedita scritta e diretta da Lucio e Fabrizio Signoretti che già dal titolo lascia intuire un po' il tema cioè l'eterna rivalità tra uomini e donne ho firmato anzi ho firmato Fidi per 100.000 euro sono le parole della presidente dell'ente cannavalesca Maria Flora Gian Marioli che oggi esce sul giornale con un'intervista rilasciata a Lorenzo Furlani sulla personalità giuridica dell'associazione che organizza il carnevale ovvero l'ente carnevalesca e lei dice la personalità giuridica ci tutela la presidente spiega l'iter da rinnovare abbiamo sbagliato a non dire della rinuncia e mi scuso siamo volontari a organizzare il carnevale e fatichiamo molto ma non ci sono cose losche non ci sono cose da nascondere il Fab Lab siamo sempre sulla pagina di Fano rilanciato alla Rocca con nuovo gestore e altri fondi risorse anche da make in class mentre l'attività è affidata alla cooperativa opera poi abbiamo 5.000 euro da Rotary alla mensa di San Paterniano a centro pagina e sempre sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico il Palazzo del Vescovo nel centro nel cuore della città è stato liberato dalla discarica e rimattina c'è stata la rimozione di tutti tutti i rifiuti insomma di tutte quelle cose che facevano parte di un cantiere che era lì vicino la ristrutturazione di un negozio e di conseguenza gli operai avevano appoggiato tutto il materiale compreso il cartongesso materiale di risulta insomma appoggiato sulla facciata del Palazzo Vescovile la Lega con Ser Filippi era intervenuta e oggi dice meglio tardi che mai ecco la fotografia qui sotto della facciata ora liberata sperando che non accada mai più Gaffa e il Guitto tengono vivo invece il teatro dialettale queste due compagnie confermano anche nel 2020 la Cianfrusaglia al Politeama poi c'è il Carnevale un po' i Carnevali in giro anche per la nostra provincia gruppi mascherati allegoria il Carnevale Cesano in grande stile spettacolare molto partecipata la seconda tappa a Ponterio di questo evento itinerante mentre sulla pagina di Pesaro primo piano ecco dove il Sindaco Ricci ha intenzione di realizzare dei parcheggi a servizio dei bagnanti a servizio di coloro che vogliono andare in auto fino quasi sulla spiaggia dall'ex area sportiva fallita il nuovo spazio per la sosta la zona e quella di Villa Marina l'idea lanciata da Riccia l'incontro conviviale con i bagnini ma il consigliere Democrat Gambini stoppa il Sindaco non ci serve un altro parcheggio mentre sull'altra pagina di Pesaro primo piano riaprirà il cocobongo che è stato bruciato grazie alla catena di solidarietà la famiglia Corsini commossa venerdì ci sarà una cena per raccogliere i fondi e dunque ricostruire questo locale per le feste in spiaggia invece sempre a Pesaro sarà mantenuto il format semaforo verde da parte dell'amministrazione comunale che riproporrà lo stesso modello dell'anno scorso alla prefettura in piazza Redi si potenzia l'illuminazione niente restyling per i portici in degrado gli assessori e i consiglieri di maggioranza hanno incontrato i commercianti e i residenti si cerca un rilancio per le attività tuttavia rimangono ancora diverse le questioni da risolvere mentre gli amministratori dei condomini hanno disertato la riunione infatti nessuno nei pressi di piazza Redi era presente uno stress test invece per muraglia la demolizione del cavalcavia lunedì 24 sarà chiuso al traffico il sottopasso di via la marca i nodi dei quartieri dove sarà deviato il traffico della statale e poi si riqualificheranno le fermate degli autobus biancani per il pesarese i contributi regionali sono di 200 mila euro il terzo libro di Ricci io contro l'odio racconto dice Ricci la mia battaglia per la memoria e la senatrice Segre mi farà la prefazione l'idea mi è venuta alla manifestazione con lei la rete dei sindaci deve essere un antidoto contro ogni forma di violenza dice Ricci mentre la cena della Lega fa il sold out il tutto esaurito saranno quasi in 500 appunto per Salvini intanto il comizio in piazza previsto con mezz'ora di ritardo alle 18.30 a poca distanza invece i pesci le sardine di Mattia Santori che come abbiamo detto sarà presente a Pesaro domani fermate degli autobus rinnovate altri 214 mila dalla regione finanziati i progetti l'annuncio di Biancani saranno abbattute le barriere architettoniche il piano sanitario Urbino fa fuori l'ospedale lo sostiene ancora una volta l'assessore comunale alla sanità Elisabetta Foschi che ha analizzato il documento finale e conclude che il nosogomio di Urbino diventerà secondo la Foschi un satellite di Pesaro il problema Marche Nord si deduce in provincia ci sarà un solo mega presidio e questo sarà quello di Muraglia un Urbino capoluogo ricorda Paolo Volponi questo è l'articolo che troverete in basso sempre sulla prima pagina mentre il Corriere palloni gonfiati giocatori allenatore sugli assegni non c'è la nostra firma si parla di una inchiesta sulle sponsorizazioni dell'associazione sportiva dilettantistica Pieve di Cagna che è finita nel Mirino interrogati i testimoni dell'accusa molti sono stati non ricordo poi sotto pericolosa l'assenza dell'ospedale ducale dal piano regionale l'assessore Foschi attacca il nosocodio di Urbino rischia di essere declassato e poi dalla Valmetauro Fossombrone il controllo tra un anno e mezzo il paziente chiama il CUP per fissare una visita all'ospedale di Fano la prima disponibilità però è per giugno 2021 l'uomo lamentava l'uomo scusate lamenta il disservizio si parla di tagli dice alle liste d'attesa ma poi non si trova una soluzione rapida sotto invece sempre da Fossombrone si abbatte la vecchia linea di media tensione per fare posto ad un impianto ecosostenibile a Fossombrone al via i lavori dell'Enel dureranno tre settimane così è stato annunciato dal sindaco Bonci poi da Cagli Cagli che battezza l'itinerario della bellezza con 12 comuni uniti il territorio fa rete cresce dunque questo progetto ideato e sostenuto da Confcommercio il direttore Varotti dice nuova guida da 148 pagine e poi si parla qui in basso di una beata la beata Margherita non so quanti di voi la conoscono è la beata Margherita della Metola è una donna grande dell'Arcidiocesi di Urbino tanto che l'8 ottobre del 1988 su istanze dell'Arcivescovo di Urbino Urbagna Sant'Angelo Invado e del Vescovo di Città di Castello la congregazione dei Santi la proclamò per le rispettive diocesi patrona presso Dio di quanti sono chiamati comunemente non vedenti ed emarginati il culto della beata è diffuso in tutto il mondo in particolare nel Nord America dove le sono intitolate addirittura dei centri di sostegno alla maternità ed è invocata come protettrice dei bambini non voluti dei bambini indesiderati e ieri c'è stato questo incontro nel Palazzo Vescovile dove c'è questo comitato si è riunito anche questo è stato costituito un comunicato per le celebrazioni composto dai Vescovi di Città di Castello e di Urbino e adesso si spera che in questo settimo centenario della morte è morta nel 1320 ci sia la possibilità da parte del Papa di canonizzarla il ponte 2 Giugno siamo in chiusura siamo nella pagina di Senigallia del resto del Corriere Adriatico il ponte 2 Giugno che è questo qui che vedete nella fotografia si può abbattere c'è adesso l'ok della soprintendenza la nuova struttura dovrà però mantenere una balaustra in pietra come l'attuale come quella attuale Netti dice tra un mese ci sarà l'appalto e dunque si potranno iniziare i lavori il Consorzio di Bonifica dice non vogliamo far interferire i lavori con la stagione turistica era l'ultima notizia della nostra rassegna stampa rassegna che finisce qui noi ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale e vi ricordo che questo è il numero per le vostre segnalazioni grazie per averci seguito buona giornata a tutti grazie a tutti grazie a tutti